Benvenuti ad una nuova review di Monday Magic, io sono Michele, una delle voci di Lariatto e del Lato Viola del Ring e oggi vi parlerò della terza puntata della seconda stagione di Monday Magic appunto lo show della Noa che sta andando in onda già da qualche settimana e che ci sta regalando uno show un po' diverso rispetto al solito rispetto agli standard della Noa, ovviamente qualcosina richiama un po' il mood e il tipo di modo di appoggiarsi al wrestling della Noa ma l'idea è quella di creare qualcosa di un po' più internazionale come vi dicevo già nelle scorse review oggi abbiamo una puntata leggermente più lunga del solito, almeno questa è stata l'impressione mentre la stavo guardando in diretta però le cose sono abbastanza importanti quelle che ci sono all'interno della puntata quindi forse la durata è un po' maggiore ma ci sono anche dei buoni motivi ovviamente per avere poi delle puntate leggermente più lunghe io direi di partire subito con i primi match, alcuni ci sono meno importanti, diciamo che ci focalizzeremo poi sui punti cruciali dell'episodio il primo match ha visto Kaito Kiyomiya e Keno battere Masakitamiya e Daikinaba match molto divertente non tanto per il lottato in quanto tale che si buono, normalissimo da opener la parte divertente è stata vedere Keno e Kaito fare coppia, nel senso che i due sono rivali da parecchio tempo hanno avuto un match anche giovedì, è stato un buonissimo match, un buonissimo incontro che ha visto un Kaito Kiyomiya cambiare e anche un Keno cambiare perché effettivamente c'è questa cosa di Kaito che è dritto puntato verso l'orizzonte e ha degli obiettivi vuole raggiungerli ma staccandosi il più possibile proprio da Keno che invece in qualche modo lo vuole vicino a sé quindi anche qua cerca di farlo solo un po' amico, è venuto fuori una cosa molto divertente, molto simpatica carina l'idea di metterli in coppia per provare a vedere un attimo come potevano funzionare quindi il match è venuto bene, avevano anche degli ottimi avversari come Masa e Daikinaba che comunque sanno fare loro, lo sanno fare piuttosto bene quindi l'incontro per iniziare lo show è stata sicuramente una piccola sorpresa che ha funzionato altra sorpresa è quella del match successivo che ha visto Aleandro battele Daga in un minuto, poco più di un minuto Daga attualmente è campione Junior, Jesse Junior e quindi Aleandro avendolo battuto, avendolo proprio schienato Daga che è arrivato molto baldanzoso, molto sicuro di sé, che è giusto per un campione e ovviamente ha avuto poi quello che si meritava e quindi Aleandro ha sfidato di fatto Daga dopo averlo battuto è la cosa più logica, più comune del wrestling, io ti batto e quindi cerco di provare a toglierti il titolo quindi vediamo come andranno le cose, sicuramente è una cosa particolare che può funzionare l'idea comunque della luce a libra sappiamo che per Nosawa è abbastanza importante quindi cerca sempre di inserirla all'interno dei suoi show qua l'ha inserito in modo un po' diverso dal solito anche perché comunque ha avuto più occasioni per poi inserire comunque la parte luce a libra proprio sempre parlando di titoli abbiamo il titolo tag GSC se vi ricordate nella scorsa puntata Jack Morris aveva lanciato di fatto una sfida un open challenge aperta a tutti i team di qualsiasi promotion poi beh era stato bloccato da Ayata e perché giustamente poi loro due avevano poi un match da fare qualche giorno dopo il giovedì nello show dell'undici proprio c'è stato un incontro per il titolo national tra loro due qua invece il focus era sui titoli tag l'open challenge sì ok è stata accettata ma non da quello che ci aspettavamo tutti cioè era molto interessante l'idea di avere la possibilità di prendere qualsiasi team qualsiasi tag pronto per arrivare a Monday Magic ovviamente qualsiasi tag io non mi aspettavo assolutamente ma tipo per niente la coppia del Great Mammies che ok va bene fanno parte un po' della lore di Monday Magic però non sono così importanti e non sono sicuramente materiale per un titolo quindi ok una difesa ok hanno mantenuto Jack Morris e Anthony Green ma speravo in qualcosa di un po' più bello un po' più interessante ovviamente a fine match Jack Morris riapre l'open challenge ancora qualsiasi promotion ovviamente ha detto niente mummie niente vampiri niente mostra di qualsiasi tipo e quindi occhio perché potrebbe arrivare ancora qualcosa di particolare strano in stile Monday Magic sappiamo comunque che giocano molto su quelle cose lì infatti giocano molto anche su questo tizio che mette delle maschere diverse ogni volta abbiamo visto nella prima puntata con la maschera da giraffa nella seconda quella da cane sto giro aveva quella da rana probabilmente a questo punto direi che la sfida verrà lanciata direttamente per il pay per view e al pay per view avremo il match ormai ha poco senso anche iniziare a costruire qualcosa perché comunque la stai costruendo con questi promo facendo venire un sacco di dubbi alla gente e al momento io non ho grossissime idee ho letto un po' in giro qualcuno dice anche Fugita ma a me sembra troppo piccolo per il fisico che ha cioè dovrebbe avere le spalle molto più grandi per essere Fugita quindi se avete idee fatemelo sapere nei commenti comunque l'open jail è stata accettata e il titolo è stato mantenuto vediamo la prossima volta chi saranno quelli che proveranno a togliere i titoli a Jack Morris e Anthony Green sempre stando in tema tag team abbiamo avuto un ottimo tag team dal mio punto di vista tra Ayata e Hulk Sasaki e il team di Yuo Wada e Ryohei Oiwa allora il match è andato abbastanza bene abbiamo questo Ayata che sta provando andare un po' nella parte degli Hill l'abbiamo visto anche con Jack Morris e non so se è effettivamente la cosa giusta per lui perché è un ottimo lottatore ha un sacco di potenziale ma in no mi sembra sempre un po' limitato probabilmente è perché deve ancora prendere un po' il ritmo sta uscendo adesso dalla parte junior dopo tanti ma tanti anni all'interno di quella divisione quindi probabilmente deve ancora prendere un po' i ritmi e un po' l'idea di come muoversi con Ulka ha fatto un ottimo tag team mi è piaciuto mi sono divertito a vederli potrebbe essere anche un modo per far crescere comunque anche Ulka che sì sta facendo bene ma ha bisogno anche lui di prendere un po' le misure comunque arriva dal mondo dell'UFC dell'MMA che è molto diverso da quello del wrestling e quindi affiancarlo a uno come Ayata che comunque ha un sacco di esperienza può essere un'ottima idea quindi vediamo se effettivamente sarà un team che vedremo più volte o se è stata una one shot buttata così tanto proprio perché Ulka è amico di fatto di Dinosauri quindi anche quello lì diciamo che è una delle tasse da inserire all'interno degli show di Monday Magic comunque il match è andato abbastanza bene dall'altra parte avevi uno Wada che è di fatto un Wookie o è un Oiwa che di fatto è un Wookie anche se ha un po' più di fisico è un po' più magari pronto su alcune cose poi anche lui deve fare ancora un bel po' di strada quindi il match è venuto bene non una cosa eccezionale però ha intrattenuto che poi è la parte fondamentale di Monday Magic che sono quell'ora e mezza due ore di intrattenimento dove ti diverti dove non devi stare lì a pensare assolutamente quale sarà la trama la cosa impossibile che succederà è molto lineare come tipo di programma come tipo di progetto e forse è anche uno dei punti di forza di Monday Magic sempre stando proprio sul tema della parte lineare abbiamo avuto un match di coppia femminile che arriva dall'intervento della settimana scorsa di Takumi Roa Takumi Roa è arrivata a salvare Miyuki Takase dopo l'attacco di Great Sakuya e di Nagisa Nozaki e ovviamente hanno fatto un tag team come avevo pronosticato già la volta scorsa cioè Takumi Roa e Miyuki Takase da una parte Sakuya e Nozaki dall'altra il match è venuto molto bene è finito in pareggio 20 minuti quindi già quello ti fa capire che comunque sono 4 lottatrici che possono fare effettivamente bene è partito un po' lento ma poi ha preso un ottimo ritmo hanno avuto anche dei momenti molto belli molto interessanti a livello di incroci anche il timing è stato fatto siccome molto bene soprattutto sulla parte di Great Sakuya che comunque aveva il Mist che comunque è una parte fondamentale del personaggio essendo di fatto la figlia di Great Muta e bravissima la Takase che l'ha bloccata un secondo prima dello sputo la Takase che era stata colpita la settimana scorsa dal Mist e quindi è andata un po' più di diciamo un po' più sveglia rispetto alla settimana scorsa e quindi l'ha bloccata in tempo poi da lì è arrivata l'airoa calci, pugni, schiaffi è riuscito molto bene l'incontro secondo me l'hanno voluto allungare un po' sui 20 minuti di time limit che comunque è una cosa che può funzionare perché comunque avevo un po' questo timore che poteva finire in vacca come è già successo tante volte invece il time limit troppo funzionare perché in realtà è servito tutto per lanciare Mari Gold che è la nuova promotion di Ogawa che proprio qualche ora prima di questo di questo episodio di Monday Magic ha fatto la sua conferenza stampa è disponibile sul canale YouTube del Wester Universe in cui ha spiegato un po' quello che farà il prossimo evento il primo evento che sarà il 20 maggio disponibile in diretta sul Wester Universe ha spiegato un po' di cose e è arrivato con una parte diciamo del gruppo principale di Mari Gold che è formata da Giulia Utami Mirai e Maisakurai di fatto 4 delle 5 ragazze che sono uscite da Stardom un paio di settimane fa e sono arrivate per fare un po' brutto al gruppo che era sul ring Ogawa ha spiegato brevissimamente un attimo chi è cosa vuole fare si è preso il mist in faccia da parte di Great Sakuya e quindi triste è un po' sconsolato è uscito dal ring è tornato nel backstage e ha lasciato le 4 ragazze lì sul ring hanno fatto un promo molto molto base in cui hanno creato un po' di hype e dove di fatto si sono sfidate quindi nel pay per view immagino perché Giulia l'ha stata annunciata come lottatrice che è proprio da pay per view quello del 4 maggio dovrebbe essere il 4 maggio comunque inizio maggio non mi ricordo esattamente se è il 4 o il 5 però proprio in in quei giorni e quindi si ci sarà un 4 contro 4 che vedrà proprio Giulia Utami Mirai e Masakurai affrontare le 4 che si erano sfidate sono andate al pareggio in questo episodio quindi Great Sakuya Nagisenozaki Takumiroa e Miyuki Takase potenzialmente può essere un match molto bello molto valido vediamo come vogliono gestirla perché si può creare qualcosa di interessante soprattutto se poi Marigold questa nuova promotion sarà disponibile di fatto sempre sul Wrestle Universe quindi un po' di cose interessanti ci sono vediamo come si evolveranno anche poi per il collegamento con gli Stati Uniti ci sono ancora un po' di punti di domanda adesso abbiamo scoperto che anche parte importante perché sono 6 ragazzi dell'artworks si sono staccate da quel progetto per unirsi a quello di Ogawa quindi c'è già stato qualche annuncio di ragazze che vengono proprio dall'estero abbiamo una tedesca una scozzese e un'americana mi sembra o un irlandese o un'americana sembra una barzelletta detto così non mi ricordo i nomi ho visto solo delle foto flash così quindi dovrò un attimo andare a vedere poi massimo ve lo dico nel prossimo video comunque la parte femminile diciamo che se la settimana scorsa era caduta abbastanza in basso stasettimana è andata sicuramente molto meglio è andata bene anche il match successivo che ha visto Jake Lee Yohei e Tadasuke battere io del Dr. Wagner Jr Shuchikondo e giunta Miyawaki match molto base molto lineare dove in realtà ha spiccato Jake Lee un po' come nome di punta tutto perché a fine match ha rilanciato la sfida al titolo sfida più o meno accettata da Wagner Jr ma in tutto questo è arrivato anche Kaito che ha detto vabbè se voi vi risfidate perché di fatto il match tra loro due è stato fatto il 31 marzo quello tra Jake Lee e il dottor Wagner Jr si voleva aggiungere anche Kaito potenzialmente potrebbe essere un three way ma il campione che va un po' sulla difensiva ha detto vabbè la prossima settimana vi emenate voi due chi vince avrà la possibilità poi di affrontarmi e di provare a conquistare il titolo GSC quindi di fatto la settimana prossima ci sarà un number one contender tra Jake Lee e Kaito Kiyomiya altra cosa potenzialmente interessante sono due nomi che sono già stati campioni abbiamo già visto più o meno come possono lavorare è ovvio che possono essere una sfida interessante e importante per io del Dr. Wagner Jr quindi vediamo come andranno le cose e per chiudere e parlare sempre di titoli abbiamo avuto il match di Ninja Mac e Alpha Wolf per il titolo Hardcore incontro che secondo me è venuto molto bene non sapevo assolutamente cosa aspettarmi anzi avevo paura di vedere una cosa un po' bruttina perché comunque Ninja Mac è un buon lottatore ma ha sempre qualcosa che non funziona dal mio punto di vista c'è sempre qualcosa che scriccola un po' e non va questo è trovato molto bene con Alpha Wolf che anche lì non brilla probabilmente a livello di personaggio a livello di character ma ha uno striking che è molto credibile soprattutto sugli schiaffi e su alcune mosse sono molto credibili hanno usato bene la parte di oggetti e situazioni varie anche fuori da ring se di escale i tavoli i tavoli che sono quelli giapponesi quindi si rompono no praticamente anzi a un certo punto ne hanno messi due fuori da ring e Alpha Wolf si è lanciato per tipo schiantare Ninja Mac e sono caduti in mezzo tra i due tavoli cioè non si è rotto niente sono caduti in mezzo però l'incontro è riuscito ha dato anche un po' di quel pathos che non sai effettivamente a un certo punto chi può vincere perché di fatto era la nancetta attendeva dalla parte di Ninja Mac anche per come era andato lo scorso episodio con Alpha Wolf che alzava la cintura e si proclamava campione e filava via e l'hanno gestito molto bene secondo me sono riusciti a fare un buonissimo incontro e quindi bene così bene così anche per il finale che ha visto Ishikawa arrivare nel nel post match e di fatto attaccare Ninja Mac quindi è una sfida non so se effettivamente sarà per la prossima settimana probabilmente per il pay per view che comunque mancano due settimane fai un attimo di costruzione e poi ti lanci direttamente per per il pay per view comunque è un altro nome abbastanza importante che può far bene può essere anche un buon campione effettivamente perché può iniziare a creare una sorta di collaborazione un po' più grande da parte della Noah quindi diverse cose interessanti in questo episodio è sempre un po' una sorpresa quella di Monday Magic perché non sai mai bene cosa aspettarti non sai mai bene cosa può venire fuori dalla testa di Nozawa non sai se effettivamente vuoi scoprirlo ma poi alla fine ti diverti è sempre un buon un buon prodotto sono quelle duole che finono molto lisce non ti stancano e hanno dentro anche del buon western del buon lottato che non fa mai male quindi voi fatemi sapere nei commenti se lo state seguendo se vi sta piacendo se avete qualche domanda io sono qua a vostra disposizione sono Michele una delle voci di Lariatto e del Dato Viola del Ring vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento ad un prossimo video per avermi seguito